minuto 74 di pro livorno sorgenti sasso marconi e c'è il quarto cambio nelle fede della pro livorno sorgenti quello che segna il ritorno in campo di matteo filippi di fatto il suo debutto stagionale per di più allo stadio armando picchi forse il migliore cornice non ci poteva essere mancava il pubblico purtroppo però la soddisfazione anche il sollievo immagino siano tanti ne parliamo con il protagonista se è stata una bella giornata diciamo per il rientro migliore cornice credo non potessi chiedere per rientrare in campo si è stata solamente una bella emozione più che altro per per quello per l'attesa che avevo di rientrare il campo purtroppo mi sono fermato in preparazione per un problema a ginocchio che sia un po prolungato però ha sempre avuto l'obiettivo di rientrare è stata dura più che altro perché attendevo di disordire soprattutto una nuova categoria con la pro livorno era come avere un regalo lì davanti tutti i giorni e non poterlo aprire però sono contento che sia arrivato il momento e che sia coinciso poi con la vittoria importante soprattutto per la squadra ecco appunto hai dato comunque il tuo contributo a questa vittoria importante in un secondo tempo che ha cambiato decisamente insomma il volto di questo match ti chiediamo quali sono le tue condizioni come ti senti insomma come sta andando il tuo programma di rientro perché ce n'è bisogno data che comunque ci sono ancora tre gare da giocare molto ravvicinate sì ora ho fatto il rientro in gruppo con gli allenamenti della squadra da una decina di giorni chiaramente la condizione non è ottimale però sto lavorando quotidianamente per cercare di rientrare al top il prima possibile ora abbiamo tre gare spero di dare il mio contributo anche se in maniera ridotta uno spezzone ma anche per far rifiatare qualcuno perché ce ne sarà sicuramente bisogno e poi con l'anno nuovo visto anche sfruttando la settimana di pausa delle feste di riprendere la miglior condizione possibile per partire anno nuovo e rientrare in gruppo con la condizione migliore possibile Matteo tu sei uno di quelli che la Serie D l'ha già fatta quindi la ritrovi con piacere anche con la tua esperienza e da quanto hai visto finora che potenziale ha questa Pro Livorno Sorgenti ma il potenziale non lo so in fatto di classifica però so che siamo un gruppo che vive sulle proprie convinzioni di gioco indipendentemente dalla categoria fortunatamente ora stiamo attraversando un buon periodo e soprattutto viviamo sull'entusiasmo non ci facciamo troppo intimorire o dall'avversario o dal tipo di partita ma andiamo a giocarcela con chiunque secondo me questo per una neopromossa è fondamentale soprattutto collezionare risultati positivi ti porta a quell'entusiasmo che a volte fa riuscire bene cose anche che magari in altri momenti potresti avere un po' più di difficoltà chiaramente sempre massimo umiltà perché sappiamo di essere una promossa che si affaccia a un campionato nuovo in tutti i significati che può portare quindi magari ci saranno poi momenti difficoltà però se riusciamo a continuare su questa linea credo che come fu per il primo anno d'eccellenza dove partivamo anche lì da neopromossa arriviamo quarto e poi c'è stata la promozione in serie di l'anno dopo quest'anno possiamo ritagliarci anche qui una fetta di soddisfazione bene quindi avanti senza timore ringraziamo Matteo Filippi di nuovo bentornato buon proseguimento